Multe dimenticate nel cassetto, i vigili urbani ad Alcamo le rispolverano evitando la prescrizione. Le notificate 2.000 contravvenzioni per un incasso di oltre mezzo milione di euro risalgono al 2010 e 2011. Oggi screening gratuito per i reni anche ad Alcamo, 1 su 10 è ammalato e 5% non sa nemmeno di esserlo. Grande adesione all'iniziativa organizzata dal Centro Emodialisi, in mezza giornata un centinaio soggetti che si sono sottoposti agli esami. Caos sul futuro della gestione delle reti idriche in provincia di Palermo. A Partinico il Comune istituisce un'unità di crisi per fronteggiare eventuali emergenze. Ieri sera ritirata dall'amministrazione la delibera di adesione per affidare il servizio all'AMAP. Mazzara del Vallo, l'amministrazione comunale incontra i sindacati che denunciano appena 35 gli anziani assistiti dal Comune e ancora nessun PAC attivato. Da qui l'invito il Comune destini maggiori risorse per le politiche sociali. I riflettori della televisione pubblica si accendono sul castello di Calatubo di Alcamo. Dal 16 al 22 marzo la RAI dedicherà un'intera settimana ai beni culturali e naturalistici italiani, tra cui la storica struttura alcamese. Il Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, lancia l'appello a tutta la diocesi a vivere 24 ore con il Signore e ad una sorta di catena spirituale permanente, momenti di preghiera anche ad Alcamo e a Castellammare del Golfo. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. Apriamo con una notizia di cronaca. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di vita per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta del 48enne Girolamo Peraino di Trapani e del 36enne Vito De Priamo di Salemi, i quali, in evidente stato di ebbrezza, dopo essere entrati all'interno di un locale, avevano iniziato ad inveire contro il proprietario. Il comandante della stazione di vita, il maresciallo Sebastiano Ferrarello, che si trovava casualmente all'interno dell'esercizio, ha tentato di riportarli alla calma. Tentativo però rivelato, Sivano Ferrarello si è visto costretto a chiedere l'intervento dei suoi uomini. Peraino e De Priamo, per sottrarsi al controllo, hanno colpito al volto un militare intervenuto bloccati. I due sono finiti qui in manette. Dopo la convalida dei fermi, sono stati sottoposti a regime degli arresti domiciliari. Ci spostiamo ad Alcamo. Multe dimenticate nel cassetto. I vigili urbani le rispolverano, evitando in extremis la prescrizione. Notificate 2.000 contravvenzioni per un incasso di oltre mezzo milione di euro risalgono al 2010 e al 2011. Circa 2.000 persone multate che tra il 2010 e il 2011 non hanno mai pagato la sanzione. Seppur sul filo di rana, il comando di Polizia Municipale ad Alcamo, attraverso la collaborazione di discussione Sicilia, ha messo a ruolo e notificato ai trasgressori il mancato pagamento e per loro sono dolori. Per non avere pagato entro i termini previsti, vale a dire i 60 giorni, arrivano more, ulteriori sanzioni e interessi che raddoppiano e in alcuni casi triplicano l'iniziale somma. Una vera e propria stangata che sta per essere recapitata e in alcuni casi è già arrivata nelle case dei contravvenzionati che magari speravano di farla franca attraverso la prescrizione. Forse qualcuno di loro pensava di avercela già fatta, altri magari avranno anche dimenticato che nel 2010 e nel 2011 erano finiti nel tacquino dei trasgressori dei caschi bianchi. Sta di fatto che ora per loro il conto si fa davvero salato. Il provvedimento è stato emanato in questi giorni dal comando di Polizia Municipale che ha effettuato un resoconto delle sanzioni amministrative elevate mai pagate a cavallo tra il 2010 e il 2011 per l'appunto. Multe che rischiavano di finire in prescrizione per effetto del limite di 5 anni per evitarla. Si tratta oltretutto di somme importanti, infatti i trasgressori che non hanno pagato dovranno adesso versare nelle carse del comune alcamese ben oltre mezzo milione di euro. Provvedimento questo che rientra nell'ambito dell'azione di recupero crediti che è stata avviata da qualche tempo dal comune con l'obiettivo di ridare l'infa alle finanze di un ente che naviga sempre più spesso in acque agitate sul piano economico. Da considerare che da un primo resoconto il municipio avrebbe da recuperare qualcosa come un milione di euro di crediti tra multe mai notificate, recuperi di soldi da sentenze favorevoli, addirittura concessioni edilizie o lottizzazioni mai pagate. Il conto è salito di anno in anno mentre l'inerzia degli uffici comunali di Alcamo ha lasciato scorrere tutto nel quieto vivere ed oggi se ne pagano le conseguenze. Le mancate notifiche e i recuperi crediti che non sono mai andati in porto a livello di completamento dell'iter burocratico ora rischiano seriamente di finire in prescrizione e il comune di Alcamo non potrà più riscuotere nulla lasciando così a secco le sue già sfittiche casse. Una cifra che ha potuto conteggiare il movimento ABC attraverso il suo gruppo consigliare e riscontrare analiticamente anche dai dirigenti del comune migliaio di euro più, migliaio di euro in meno. Una vera beffa per un ente locale che si trova in una difficile situazione economica e che soffre di una mancanza cronica di liquidità oltre che dei pesanti tagli e trasferimenti di Stato e Regione. Esprimo il mio personale apprezzamento e quello dell'intera direzione strategica aziendale ai magistrati della procura di Trapani e ai militari dell'arma dei carabinieri per la brillante operazione compiuta insieme a una profonda solidarietà alla famiglia della bambina coinvolta a dichiararlo il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani Fabrizio De Nicola dopo l'indagine che ha portato in carcere un bidello di una scuola trapanese arrestato in flagranza per abusi sessuali su un'alunna. L'ASP dice particolarmente sensibile alle attività di prevenzione sui comportamenti a rischio nelle scuole ha aggiunto e già messo in campo un progetto denominato Experimental Project Management la prevenzione della violenza sulle donne un percorso di alta formazione che insegna le studentesse a difendersi riconoscendo i primi segnali che possano portare alla violenza di genere. L'ASP di Trapani inoltre nei giorni scorsi è stata scelta dal Ministero della Salute come partner per un progetto nazionale del CCM il Centro di Prevenzione e Controllo Malattie contro la violenza sulle donne per il biennio 2015-2017. E rimaniamo in tema di sanità oggi screening gratuiti per i reni ad Alcamo uno su dieci risulta ammalato e il 5% non sa nemmeno di esserlo. Grande adesione all'iniziativa organizzata dal Centro Emodialisi di Alcamo in mezza giornata un centinaio i soggetti che si sono sottoposti agli esami. Un centinaio di visite effettuate soltanto in appena mezza giornata un vero record per Alcamo che ha aderito davvero massicciamente all'iniziativa curata dal Centro Emodialisi di Alcamo con il patrocinio gratuito del Comune andata di scena oggi nella centralissima Piazza Ciullo ad essere stati effettuati degli screening gratuiti nell'ambito della giornata mondiale del Rene andata di scena nella cittadina alcamese per il secondo anno. I partecipanti con un semplice prelievo possono verificare le condizioni di salute dei propri reni. Quest'anno veramente la popolazione alcamese ha risposto molto bene sono venuti già più di un centinaio di persone che è un numero abbastanza elevato considerato che è un giorno feriale lavorativo. I risultati di oggi chiaramente li avremo fra qualche giorno ma avendo un'esperienza decennale nel campo della prevenzione possiamo dire che il 10% della popolazione che viene a fare gli esami ha un problema renale di questi la metà non sapeva di averlo e quindi questo è chiaramente molto importante per fare prevenzione Le malattie renali evolvono spesso in modo silenzioso e riconoscerne in tempo i campanelli d'allarme è fondamentale per prevenirne l'evoluzione verso l'insufficienza renale cronica e diminuire quindi il rischio cardiovascolare In Italia e nel mondo le nefropatie sono in aumento e secondo il registro italiano di dialisi e trapianto, attivo da 20 anni sono ancora troppe le persone che arrivano alla terapia sostitutiva soprattutto dopo i 65 anni è una patologia che affligge ogni fascia d'età ma ovviamente gli anziani sono i più statisticamente soggetti oltre agli esami di sangue gli utenti si sono sottoposti alla misurazione della pressione arteriosa i gazebo sono stati letteralmente presi d'assalto segno evidente che per la tematica c'è una certa sensibilità sul piano dello stile di vita da adottare esistono delle contromisure per poter preservare il proprio rene è un'alimentazione moderata, usare poco sale, bere abbastanza acqua un vecchio spot del Ministero della Salute diceva 8 bicchieri di acqua al giorno servono a proteggere il tuo rene da un eventuale danno è sempre valido, è un'attività fisica moderata per chi può farla è sempre un consiglio molto utile è ripartito ieri pomeriggio alle 16 il servizio di raccolta dei rifiuti a Petrosino a darne notizia all'ufficio tecnico comunale invitando la cittadinanza a deporre i sacchetti fuori dalla propria abitazione e il distretto sociosanitario numero 55 che comprende Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimise e Gesta rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle richieste di sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da SLA con scadenza semestrale al 30 marzo per il semestre di gennaio-giugno e al 30 settembre per il semestre luglio-dicembre di ogni anno chi è interessato alla presentazione delle istanze per ottenere il sostegno economico può presentare istanze secondo specifici criteri la domanda dovrà pervenire all'ufficio protocollo generale del comune di residenza facente parte appunto del distretto sociosanitario numero 55 entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo prossimo per il semestre gennaio-giugno e il 30 settembre per il semestre luglio-dicembre di ogni anno farà fede il timbro di ingresso al protocollo generale del comune di residenza per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi agli uffici di servizio sociale dei rispettivi comuni ed è caos sul futuro della gestione delle reti idriche in provincia di Palermo a Partinico il comune istituisce una unità di crisi per fronteggiare eventuali emergenze ieri sera ha ritirato dall'amministrazione la delibera di adesione per affidare il servizio all'AMAP il comune di Partinico ha istituito una unità di crisi per fronteggiare eventuali emergenze idriche lo ha assicurato l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Pantaleo che ieri ha relazionato in consiglio comunale rispetto all'attuale situazione di incertezza che si sta attraversando in molti comuni della provincia tra cui Partinico che ancora non sanno quale sarà il futuro gestore del servizio idrico abbiamo già costituito una squadra con nostri operai a ferma Pantaleo che ci garantirà interventi in caso di necessità l'iniziativa rientra nell'ambito dell'attuale caos che si sta attraversando dopo il rifiuto di AMAP alla gestione del servizio idrico in provincia in sostituzione dell'APS, società in via di liquidazione in questa fase neanche la regione sa quale pesci prendere e oggi dovrebbe arrivare qualche decisione in merito per superare l'attuale fase di impasse molto critica che rischia di bloccare un servizio essenziale per un bacino di circa 500.000 abitanti sino ad oggi a Partinico non si sono registrati i problemi l'acqua è stata regolarmente erogata questa mattina proprio per questa situazione di incertezza ieri l'amministrazione comunale ha deciso di ritirare l'atto deliberativo per l'affidamento della gestione del servizio idrico all'AMAP nel corso del consiglio comunale che era stato per l'appunto convocato non certamente per vigliaccheria o per lavarsi le mani precisa il presidente del consiglio Filippo Aiello ma semplicemente perché vogliamo capire quali decisioni saranno prese da qui a breve quando il quadro sarà più chiaro convocherò immediatamente un consiglio comunale con carattere d'urgenza il comune deve riprendersi la gestione diretta delle reti ha sostenuto il consigliere Vito D'Amico perché l'unica soluzione percorribile a garanzia dei cittadini è di un bene prezioso come quello dell'acqua una vera mazzata è il dietro fronte dell'AMAP la società a cui la regione avrebbe dovuto affidare la gestione delle reti idriche di una quarantina di comuni della provincia di Palermo tra cui per l'appunto Partinico che dopo aver dato l'iniziale disponibilità ad effettuare il servizio in questi giorni è invece declinato la contestazione principale al sindaco è quella di non avere programmato mai un ritorno alla gestione diretta del servizio idrico così come fatto da altri comuni come Cinisi e Terrasini oggi abbiamo l'ennesima occasione per riprenderci le reti aggiunge il consigliere Valentina Speciale grazie alla fine dell'ennesima proroga prefettizia che dava la gestione alla fallita PS fino al 10 marzo e il sindaco dice di nuovo no complice alla sua maggioranza consigliare in realtà molti mugugni sono arrivati anche dalla stessa coalizione a sostegno del primo cittadino non è perseguibile la via della gestione diretta del servizio idrico sostiene Lobiundo per il semplice fatto che il nostro comune non ha personale specializzato sufficiente non ha i mezzi e tantomeno le risorse finanziarie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti